Allora ragazzi siamo in una bettina, voi direte guardate questo che va a funghi di notte, in realtà sono le 8 e 10 ma al 29 settembre succede anche questo, completamente buio a causa nebbia e brutto tempo Grazie a tutti 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 Niente da fare, sono tutti vicino alla strada Questa è anche bellissima Grazie a tutti 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 Grazie a tutti